Siamo seduti su una sorta di poltrona odontoiatrica in metallo, la luce fredda e asettica, di fronte a noi un uomo in camice. Un po' storditi iniziamo a guardarci intorno per poi giungere con lo sguardo alle nostre mani chiuse all'interno di una scatola piena di led pulsanti. La scatola è chiaramente un puzzle che siamo costretti a risolvere, ma una domanda sorge spontanea. Cosa sta succedendo? Il concept di Static è delirante e straordinario allo stesso tempo. Delirante perché l'idea è estremamente folle e originale, straordinario perché per una volta l'originalità è al servizio di un gameplay praticamente perfetto e una storia affascinante. Non a caso, gli svedesi di Tarsier Studio si sono chiaramente ispirati all'estetica e allo storytelling tipico della Val dei Tempi d'Oro, omaggio che si fa palese con l'unico personaggio con il quale andremo a interagire. Il dottore che ci guiderà ed esaminerà attraverso i dieci puzzle che compongono la campagna, nonostante il volto nascosto, assomiglia infatti fortemente al dottor Kleiner di Half-Life, somiglianza richiamata anche dal design degli ambienti e da un tipo di black humor straniante e azzeccatissimo. Ovviamente i nostri hanno alle spalle un'esperienza decennale, con diversi porting e adattamenti per conto di Sony, oltre che quella piccola perla piena di guizzi visivi qual'era Little Nightmare. Tarsier dimostra ancora una volta con Static come il puzzle game in VR possa assumere una forma completamente nuova che eleva il genere, offrendo un'esperienza sensoriale e personale difficile da replicare, anche se il single player non è l'unica modalità che Static ad offrire. Come già citato, nell'esordio VR di Tarsier Studio saremo una sorta di cavia da laboratorio seduta su una sedia con le mani incastrate all'interno di una scatola. Questa scatola verrà mossa dal controller di PlayStation 4 attraverso un tracking qui è eccellente, in cui potremo ruotarla e ispezionarla da tutti i punti di vista possibili. Ogni tasto del controller sarà associato a una funzione specifica della scatola e i primi minuti di ogni livello serviranno a comprendere cosa aziona cosa, per poi passare all'analisi del puzzle e alla risoluzione. Gli enigmi sono sempre complessi al punto giusto, mai così criptici da farsi frustranti e mai così semplici da togliere la soddisfazione della riuscita. Nonostante non siano impossibili da risolvere, perderemo decine e decine di minuti per comprendere i meccanismi che stanno dietro alle varie scatole, questo non perché siano malgestite, ma perché richiedono una comprensione graduale dell'ambiente dei meccanismi, che con il giusto spirito d'osservazione ci porteranno inevitabilmente alla risoluzione. Non mancano oltretutto livelli ponte tra le sezioni principali, che ci porteranno ad approfondire per quanto possibile la storia e scandiranno il ritmo di gioco. Queste ultime saranno divise tra inquietanti colloqui del gusto surrealista e un puzzle graduale che si legherà all'ultimo livello, fino a un finale che arriverà dopo circa 3-4 ore di gioco. Visivamente Static rende straordinariamente bene, questo perché le geometrie semplici ma accattivanti dei quadri e il campo visivo ridotto riescono a spremere al limite la risoluzione in game, rendendo il tutto decisamente piacevole e definito. Grazie anche all'ottima gestione del tracking, tra l'altro, Static riesce a regalare un'esperienza prettamente tecnica assimilabile a quella dei visori di fascia più alta, come HTC Vive e Oculus Rift. Static offre anche una modalità multiplayer cooperativa con tre puzzle unici, da risolvere insieme a un amico attraverso l'utilizzo di uno smartphone collegato alla PlayStation 4, aggiungendo un ulteriore grado di sfida che fa assaggiare la bellezza e la peculiarità del party game in VR. L'esperienza cooperativa risulta un po' breve, ma è un'aggiunta senza dubbio gradita che fa ben sperare per il futuro. L'esordio su PlayStation VR di Tarsier Studio risulta uno dei puzzle game più memorabili degli ultimi anni e sfrutta con grande eleganza tutti i pregi del caschetto di Sony. Questi sono i titoli che rendono la line-up VR di PlayStation 4 superiore alla sua controparte PC, sebbene quest'ultimo gli sia avanti sul fronte tecnico. Static è il classico esempio di come la forza bruta e il tracking a 360 non servano a rendere un titolo straordinario e anzi grazie ai limiti dell'hardware è possibile limare un prodotto quasi alla perfezione. Se avete un PlayStation VR avete l'obbligo morale di acquistare immediatamente Static. Non è un ordine, ma state molto attenti.